Musica Bentrovati alla terza edizione del TG6 Un piano di manutenzione da circa 90 milioni di euro è quello che è venuto fuori dallo studio condotto dall'Ater di Pescara sugli alloggi circa 4.500 di tutta la provincia di Pescara ci sono in ballo manutenzioni urgenti da fare per una cifra che si aggira attorno agli 8 milioni di euro soldi che l'Ater chiede a Regione Abruzzo vediamo insieme il servizio Servono almeno 7 milioni di euro per gli interventi urgenti nei 4.450 alloggi Ater di Pescara soldi che ovviamente l'Ater non ha in cassa visti gli introiti mensili circa 350 mila euro e la morosità arretrata circa 5 milioni le cifre che toccano quota 90 milioni di euro se si considerano oltre agli interventi indifferibili anche quelli che si possono programmare sono il risultato del monitoraggio condotto dall'azienda che ha avviato il fascicolo del fabbricato al momento non sono stati stanziati nemmeno i 3,7 milioni di euro promessi dal presidente dell'Aggiunta d'Alfonso per le case Ater per questo, dice il presidente dell'Ater pescarese si attendono buone notizie dal bilancio regionale ci aspettiamo una risposta della regione che ci dia il segnale almeno della disponibilità nel tempo di denaro magari nel giro di 3 anni, 4 anni che si possa avere per gli altri interventi si possa avere uno stanziamento pluriennale Secondo il vostro monitoraggio di quali interventi si ha maggior urgenza sulle palazzine? Abbiamo chiaramente computato programmato e computato tutta una serie di interventi definiti indifferibili nel senso urgenti che in particolare si riferiscono ai paramenti esterni dei fabbricati quindi cornicioni, frontalini, balconi ammaloramenti, calcestruzzi, intorno e quant'altro cioè tutto ciò che può provocare situazioni di pericolo L'assessore regionale all'edilizia popolare Donato Di Matteo ha sottolineato come la legge di cui è firmatario per il riordino delle Ater e l'unificazione di questi enti si ancora ferma nel cassetto Di Matteo si è anche scaglietto contro chi vuole mantenere lo status quo fatto di sprechi, di nomine e di compensi per commissioni dice che non servono a nulla Questo sistema fatto di tante strutture non hanno la capacità di poter stare con i tempi e con le difficoltà economiche che ci sono oggi per cui io ancora una volta voglio ristimolare l'assetto regionale a completare e a portare a termine la legge di riforma delle Ater Certo, alla politica fa comodo avere più strutture perché si fanno più nomine si fanno più commissioni si continuano a spiegare soldi Io su questa linea non ci sto l'ho detto più di una volta Io credo che a conclusione del ciclo della regione più di ulteriori nomini nomine si tratta di fare una riforma Ed ora la cronaca nuovo furto nel liceo scientifico di Lanciano lo scientifico Galilei che era già stato oggetto di furti tra l'altro ci sono stati anche dei danneggiamenti all'interno dell'edificio quantificati in circa 50.000 euro sentiamo di più nel prossimo servizio 24 ore dopo l'arresto di uno dei presunti responsabili del furto di 18 computer commesso la notte tra il 20 e il 21 marzo il liceo scientifico Galilei di Lanciano è stato nuovamente preso di mira dai ladri questa volta però i soliti ignoti non si sono limitati a portare via l'attrezzatura informatica ma hanno letteralmente vandalizzato la scuola tanto che i mille studenti non hanno potuto fare lezione e sono stati rimandati a casa la mara scoperta è avvenuta al mattino all'apertura dell'edificio scolastico il nuovo blitz si è concluso con il furto di più di 30 tra personal computer e tablet e il danneggiamento di decine di porte dei laboratori, degli uffici amministrativi e della dirigenza i ladri hanno preso i 12 pc rimasti nell'aula informatica poi un'altra ventina di computer e tablet che erano in uffici, laboratori all'interno di un armadio blindato è stata rubata anche la cassaforte che conteneva un fondo cassa di un paio di centinaia di euro i danni stavolta sono davvero ingenti secondo una prima stima ammontano a 50.000 euro come per il precedente anche su questo furto indagano gli agenti del commissariato di Lanciano sul posto ha lavorato la scientifica per i rilievi del caso l'unico presunto responsabile finora arrestato un 21enne residente a Monte Silvano è stato identificato sulla base di un'impronta lasciata sul posto adesso si cercano i complici potrebbero essere stati loro a infierire di nuovo sul Galilei le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì mattina dopo il lungo lavoro di ripristino dei luoghi e di pulizia da parte del personale della scuola ancora una volta bisogna constatare l'assenza della provincia di Chieti titolare dell'immobile che in occasione di altri episodi criminosi a danno di scuole ha più volte ribadito di non aver fondi da destinare al ripristino degli impianti di allarme lasciando di fatto gli istituti superiori alla merce di bandali e ladri il vicepreside del Galilei Carlo Recchioni fa notare che a fronte di poche centinaia di euro di prevenzione occorreranno decine di migliaia di euro per riparare i danni il progetto di riconversione e riqualificazione industriale della Val Vibrata prevede fondi per circa 15 milioni di euro questa mattina nella provincia di Teramo è stato organizzato un incontro tra i dirigenti regionali e le aziende che vogliono investire sul territorio sentiamo insieme i dettagli nel servizio di Tania Bonnici Castelli il 9 maggio scorso è stato approvato il piano di riconversione industriale dell'area di crisi complessa Vibrata Tronto con 32 milioni di dotazione finanziaria 17 milioni per l'area marchigiana e 15 milioni per l'area teramana oltre a questi fondi ci sono poi le misure specificatamente dedicate all'area vibrata dalla regione Abruzzo i fondi PORFESD per 7 milioni di euro a sostegno di progetti di investimento per innovazioni di processo produttivo o di prodotto e i fondi PORFSE per 7 milioni 750 mila euro per azioni di politiche attive del lavoro percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze e interventi di ricollocazione ad illustrare queste importanti opportunità per le aziende è stata organizzata nella sede della provincia di Teramo una giornata dedicata alle domande degli imprenditori che vogliono investire nel territorio terramano di cosa avete bisogno voi realmente? Allora noi abbiamo bisogno di macchinari nuovi allora l'azienda è un'azienda che è più di 10-12 anni che è sul mercato è un'imprenditoria femminile produciamo materiali ornamentali per il ferro e con lungo andare cioè questi macchinari sono obsoleti cioè in questo momento si può produrre molto di più a un costo inferiore con dei macchinari nuovi noi abbiamo dei macchinari molto obsoleti e in più abbiamo bisogno di mano d'opera un po' più specializzata all'incontro con le aziende nella sala giunta della provincia di Teramo erano presenti i dirigenti della regione Abruzzo che hanno spiegato i meccanismi amministrativi per accedere alle diverse misure di finanziamento previste dai prossimi bandi nazionali e regionali indirizzati alla Valbibrata per il progetto di riconversione e riqualificazione industriale che requisiti deve avere un'azienda per poter accedere a queste somme? le aziende i requisiti variano in relazione alle diverse misure perché nell'ambito del piano come avete visto ci sono tre misure diverse poi ci sono anche i contratti di sviluppo per le grandi aziende le grandi aziende possono fare investimenti che devono necessariamente partire da 20 milioni in su e ci sono due o tre diciamo trattative chiamiamole così per l'intervento in quell'area i 15 milioni che mette a disposizione lo Stato sono ex legge 181 e finanziano interventi da un milione e mezzo in su i soldi invece del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale abbracceranno un target più basso in aziende anche artigiane e saranno degli interventi diciamo da circa 200 mila euro e adesso la pagina politica con le elezioni amministrative all'Aquila continuano gli appuntamenti in vista della tornata elettorale nel capologo di regione il centrodestra ha presentato le liste che sostengono la candidatura di Pierluigi Biondi sentiamo il servizio di Daniela Rosone una coalizione quella del centrodestra che torna per le elezioni dell'Aquila a presentarsi unita dopo 15 anni convergendo sul nome di Pierluigi Biondi un programma di priorità per l'Aquila e ciò che ha fatto in due anni da sindaco nel comune di Villa Sant'Angelo così è per Pierluigi Biondi il candidato dicevamo del centrodestra all'Aquila lo sostengono sette liste che ha presentato davanti a circa 300 persone Rivoluzione Cristiana l'Aquila Futura Forza Italia Udc Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale noi con Salvini benvenuto presente più diverse liste civiche in sala tra gli altri il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano il deputato Fabrizio Di Stefano e la senatrice Paola Pelino qualche mese fa dicevano che tuttora deciso il centrodestra era condannato alla sconfitta non è così le cose sono cambiate di molto ha aggiunto Pierluigi Biondi abbiamo iniziato parlando di un granello qualcuno capziosamente ha detto che avremmo inceppato il meccanismo della ricostruzione no noi bloccheremo il sistema di potere targato Partito Democratico ha detto dentro le liste del centrosinistra c'è tutto il contrario di tutto ci sono persone che per 4 anni per 5 anni non hanno perso occasione per parlare male dell'amministrazione Biondi ha annunciato che sui 224 candidati più di 100 sono donne ottima quota rosa dunque e anche qui nelle liste molti giovani età media 42 anni e adesso andiamo a vedere la presentazione delle liste invece del centrosinistra nel liste a sostegno della candidatura di Americo Di Benedetto tante liste sostengono il candidato del centrosinistra alle prossime amministrative Americo Di Benedetto vivendo l'Aquila si chiama così la coalizione presentata in un ridotto del teatro comunale aquilano gremito di personaggi del centrosinistra Pietrucci lo sconfitto delle primarie di Benedetto il vincitore candidato sono per primi sul palco in sala ci sono tanti volti noti del BD a ribadire l'unione a cominciare dalla senatrice Stefania Pezzopane Giovanni Lolli vicepresidente della regione il sindaco Massimo Cialento ovviamente tanti altri esponenti della politica di qualche anno fa Cecco Peppe Francesco Aloisi l'ex sindaco Antonio Centi Edoardo Caroccia molti consiglieri comunali che si sono ricandidati e anche il manager dell'ASL Rinaldo Tordera Di Benedetto come è noto ha avuto la meglio sul consigliere regionale del PD Pier Paolo Petrucci è il candidato dunque della coalizione civica progressista vivendo l'Aquila e a tutte le critiche che ci sono quando uno fa sbaglia i tempi della pubblica amministrazione sono quelli che sono molto probabilmente si dimentica di una cosa che a settembre del 2009 a prescindere dalla norma che non certificava e non chiedeva nulla tutti i bambini della città dell'Aquila erano dentro le scuole e credo che questo debba essere dato come attestato di grande impegno amministrativo da parte dell'amministrazione cialente certo molto c'è da fare ci dobbiamo adoperare dobbiamo rilanciare stiamo facendo le verifiche sismiche dobbiamo dare una prospettiva reale su un doppio binario a sostenerlo ci sono diverse liste Partito Democratico Articolo 1 Movimento Democratici e Progressisti Territorio Collettivo Abruzzo Civico Democratici e Socialisti Cambiare Insieme che peraltro è la prima lista depositata in comune l'Aquila Sicurezza Lavoro Socialisti e Popolari nelle liste tanti giovani e anche molte donne le prime esperienze in politica Adesso la politica pescarese la lista Teodoro resta in maggioranza lo ha detto questa mattina nel corso di una conferenza stampa Gianni Teodoro che ha ribadito che non c'è stata e non ci sarà nessuna richiesta di poltrone dopo la perdita dell'assessorato sentiamo Paolo Renzetti Questa mattina avete fatto questa conferenza stampa qui in sala del Consiglio Comunale per fare un po' di chiarezza restate in maggioranza restate al fianco del Sindaco Alessandrini e poi non chiedete poltrone Noi abbiamo sottoscritto il programma elettorale del Sindaco lo abbiamo sostenuto abbiamo dato un contributo rilevante alla sua vittoria e lo sosterremo fino all'ultimo giorno di questa consigliatura non abbiamo mai pensato di uscire dalla maggioranza tutt'altro l'obiettivo di oggi nel presentare questo cartello di liste civiche è per rafforzare il civismo all'interno della coalizione di centro-sinistra in un gioco di riequilibrio con il Partito Democratico Però è innegabile che spesso in questa legislatura dalla lista Teodoro siano arrivate critiche anche pesanti nei confronti dell'operato del Sindaco Noi aspettiamo ancora le motivazioni del rimpasto di giunta perché il Sindaco ha ritenuto di sostituire tre assessori non soltanto il rappresentante della lista Scelli Pescara ma anche un rappresentante del Partito Democratico è un rappresentante di un'altra lista civica i liberali e cattolici e democratici chiediamo appunto di conoscere quali sono le motivazioni perché se non conosciamo le motivazioni abbiamo qualche difficoltà nel comprendere questo significativo dal suo punto di vista cambiamento non ho chiesto mai e non mai chiederò poltrone prebende quant'altro neanche all'ater giusto? neanche all'ater io ho già comunicato prima verbalmente al presidente della giunta e poi agli uffici competenti che mi è stato chiesto per iscritto la mia incompatibilità pertanto non siamo interessati ad un rappresentante nel governo della città perché non amiamo la politica come il dot d'est ma amiamo la politica come servizio il partito socialista si scaglia contro la giunta Maragno e contro l'aumento dell'imu sui terreni edificabili di Montesilvano dall'aumento arriveranno nelle casse comunali secondo la stima del PSI almeno 10 milioni di euro sentiamo il servizio il partito socialista prossimo alla costituzione di un gruppo nel consiglio comunale di Montesilvano non esita a chiamare sproprio la delibera dell'aggiunta Maragno con cui viene portata al massimo di legge l'imu sui terreni edificabili della città circa 12 milioni di metri quadrati che frutteranno secondo i calcoli fatti dagli imprenditori immobiliari circa 10 milioni di euro di gettito aggiuntivo rispetto ai 16 complessivi dell'imu come era fino ad oggi il regolamento è già in vigore ed è anche retroattivo di un quinquennio ma sarà oggetto di approfondimento da parte del TAR per effetto del ricorso avanzato da Vladimiro Lotorio ex capogruppo della Margherita di Montesilvano e costruttore edile assieme a Giorgio D'Ambrosio a capo del PSI regionale e al consigliere comunale Nea D'Alonso si è detto preoccupato per gli effetti che questa stangata avrà sui proprietari di terreni siano essi imprenditori o privati cittadini io ho molta fiducia nella magistratura perché la magistratura fortunatamente vede il diritto e fortunatamente sa leggere temo soltanto che l'arroganza e la presunzione di questa amministrazione non consenta alla politica e che quello mi preoccuperebbe di più alla politica di riaprire un confronto che in definitiva non c'è stato L'argomento è destinato comunque ad arrivare in consiglio comunale il PSI lamenta la mancata concertazione sull'argomento per questo al di là del ricorso al tribunale amministrativo è pronta una interrogazione diretta all'assessore competente al sindaco Maragno Magari con una semplice concertazione di associazioni di categoria si poteva quantomeno avere un connubio tra il prezzo e la situazione tra macro in microzone che poteva ottemperare meglio al comune di Montesilvano invece tutto ciò è stato fatto in piena autonomia dalla giunta e quindi al nostro modo di vedere vogliamo correggere il tiro e in consiglio comunale daremo battaglia Dopo le aggressioni a sfondo omofobo verificatesi a Pescara Sinistra Italiana e Ampi chiedono di non sottovalutare quanto accaduto invitando tutti ad una riflessione nel nome della Costituzione ci sarà anche una manifestazione a riguardo sentiamo Oggi c'è questa conferenza stampa in comune per parlare delle ultime aggressioni che ci sono state a Pescara c'è preoccupazione da parte vostra anche per eventuali diciamo ripercussioni politiche che ci potrebbero essere per quello che è accaduto ma io penso che assolutamente l'Ampi deve essere protagonista in questo momento per rispolverare quelli che sono i valori della resistenza l'Italia che è nata dopo la resistenza è stata impostata da quelli che sono stati partigiani per dei diritti per salvaguardare la libertà personale di tutti in base alle loro scelte la Costituzione è il faro di questi valori dobbiamo ricordare dobbiamo essere presenti e tutte le forze politiche devono assolutamente essere protagoniste e unite in questo momento questi episodi non devono accadere e le forze associative e politiche neofasciste devono assolutamente essere stigmatizzate perché non si può ricadere in un qualcosa che abbiamo superato 70 anni fa e passa siete preoccupati per quello che è accaduto? Sì siamo preoccupati perché sinceramente era parecchio tempo che non accadevano episodi di questo tipo e in questo momento di grave crisi economica e sociale purtroppo determinati movimenti riescono a attecchire a fare leva sulle paure e sull'insoddisfazione della gente ed è per questo che qualcosa deve cambiare e deve cambiare nel senso e nel percorso che è stato tracciato dalla Costituzione del 1948 il popoloso quartiere cona di teramo tra i più colpiti del terremoto non si arrende alle difficoltà e organizza due giorni di musica e street food vediamo il quartiere il quartiere cona di teramo è uno dei quartieri più duramente colpiti dagli ultimi terremoti insieme a collaterrato conta il maggior numero di cittadini sfollati ma non solo gli abitanti della cona invocano da anni lo spostamento della centrale Enel a confine con tante abitazioni e la riqualificazione della vecchia fornace piena di eternit e poi magari anche una piazza da sempre promessa e mai realizzata l'amministrazione cosa sta facendo? Per la verità i quartieri che hanno sofferto per i terremoti sono tanti non bisogna neanche dimenticare che ho l'atterrata dove le attività veramente sono in ginocchio considerando gli sgombri che ci sono per quanto riguarda il discorso cona è evidente che avete eseguito che c'è la rimodulazione del master plan e quindi si sono come dire pensate delle risorse da investire sul territorio e quindi sicuramente ci sarà una riqualificazione anche del quartiere cona ma oggi parliamo della cona in festa due serate dedicate alla musica e al buon cibo terramano il 26 e il 27 maggio e per un attimo i problemi si mettono da parte il quartiere cona è un quartiere particolarmente popoloso eppure non ha ancora una piazza ma voi fate festa lo stesso allora noi facciamo festa a proposito faceteci la piazza per favore faceteci la piazza e ci da il cona il suo spiazzaletto perché non è tanto grande e facciamo due due giorni di festa il 26 maggio e il 27 maggio il 26 ci sarò io Vittorio il fenomeno qual è il tuo fenomeno? il mio fenomeno che suona è l'organetto dietro a schiena e mi ha dato il grande Maurizio Costanzo il nome io la cosa mi spiace tantissimo a me che mi ha dato il nome perché tutti quanti tutti quanti mi chiamano fenomeno il tecnico del Pescara Zenex Zeman è stato ospite questa mattina nell'aula magna di scienze motorie dell'università d'annunzio di Chieti e Pescara in occasione di un seminario intitolato i giovani per la legalità nello sport sentiamo l'intervista grande accoglienza grande entusiasmo oggi a Chieti per Zeman si parla di legalità nello sport dei giovani lo sport e la legalità Zeman c'è bisogno ancora di legalità nello sport e soprattutto nel calcio italiano vabbè io penso che ci vuole sempre non solo nello sport poi lo sport una volta era esempio di comportamenti esempio di imparare a vivere oggi purtroppo si sono lasciati esempi positivi e si cercano solo con i negativi che purtroppo ogni tanto escono fuori lei ha parlato e ha risposto questa mattina a tante domande degli studenti ha detto quando ho fatto qualche anno fa delle denunce e fui lasciato solo certo che non avevo dietro seguito ripeto il concetto di si è creato il sistema che si doveva difendere la sua parte di calcio specificamente sia dal punto di vista morale che economico dopo l'indagine e l'inchiesta di Calciopoli secondo lei cosa è cambiato nel calcio italiano perché prima diceva c'è ancora molto da fare per cambiare il sistema io penso che il sistema si cambia solo cambiando persone e qualche cosa si è fatto a Roma mister potrebbe arrivare Di Francesco un suo diciamo adepto sarebbe la scelta giusta per la società giallorossa e poi un pronostico su Real Madrid Juventus di Champions League la scelta giusta scelta giusta si dimostra dopo io penso che Di Francesco ha fatto molto bene a Sassuolo e passando a Roma che sicuramente è piazza diversa ma lui la conosce bene perché ha fatto sia il giocatore che il dirigente io mi auguro che se ci va può aiutare la Roma andare avanti al meglio la finale di Champions League alla finale sono 90 minuti che si devono giocare tutto sono due ottime squadre quindi c'è una favorita per me no per me sono due ottime squadre poi la palla se finisce sul palo finisce dentro c'è poca differenza obbligo di dimora per uno dei presunti autori dell'incendio delle auto del presidente del Pescara Daniele Sebastiani si tratta di un tifoso pescarese di 21 anni indagato per concorso in incendio il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Pescara Elio Bongrazio l'atto intimidatorio è avvenuto il 6 febbraio scorso le due auto di Sebastiani erano parcheggiate nel cortile della sua abitazione lungo la riviera nord pescarese ad occuparsi delle indagini è la digos della questura di Pescara e domenica ultima di campionato per il Pescara di fronte c'è la fiorentina di Paolo Sosa così si chiuderà il campionato del Delfino un'annata da dimenticare per i colori biancazzurri il portiere Vincenzo Fiorillo fa un bilancio della stagione che sta andando agli archivi sentiamolo un giudizio a protesta su questa contestazione che c'è stata da parte dei tifosi che sono entrati in curva al decimo minuto della ripresa voi cosa avete visto cosa avete avvertito dal campo beh abbiamo visto quello che è successo se ci siamo ridotti così penso che siamo i primi responsabili ecco perché alla fine si sono fatte tante chiacchiere ma le figure in campo le facciamo noi giocatori a prescindere da chi ha giocato di più e chi ha giocato di meno quindi adesso non siamo nelle condizioni di poter permetterci di dire niente c'è solo da da fare poche chiacchiere perché come ho detto prima se ne sono fatte parecchie vediamo vedremo i giocatori nuovi che arriveranno ci vorrà tanta tanta voglia e l'atteggiamento e solo le vittorie possono far sì che ci riuniamo con le persone per creare un ambiente che io ho visto con i miei occhi quando le cose vanno bene e d'oggi è stato veramente triste giocare in un clima così sono due anni che sono qui ho fatto due finali in Serie B e quest'anno mi sono misurato con una realtà che non avevo mai non mi ero contro quale non mi ero mai misurato come Milan Roma Juventus dopo quasi un anno di panchina penso che a parte a Bologna sono riuscito a dare un po' di continuità anche se la situazione non è delle migliori e nel mio ruolo non è affatto facile quindi credo che io spero di rimanere qui ecco però la scelta non dipende solo da me più di questo non posso fare ora evidentemente Vincenzo c'è però una cosa da fare importante cercare di riportare un pizzico di tranquillità in quest'ambiente secondo te come si può fare? lavorando e poi sono alla fine sono sempre risultati che fanno pendere giustamente l'ago della bilancia adesso il clima è questo ma io sono arrivato qua tre anni fa e il clima non era tanto diverso con le vittorie con l'atteggiamento siamo riusciti poi alla fine dell'anno avere lo stadio pieno anche alla nave di Cascella quindi solo questo perché veramente si sono sprecate le scusanti quest'anno e c'è poco da dire e quella vittoria col Genoa anche a me mi aveva sorpreso per numero di gol per tutto sembrava una favola già scritta quel giorno lui ci ha fatto sempre lavorare tanto abbiamo cambiato il nostro modo di allenarci ed è già una cosa positiva ci alleniamo molto in maniera intensa e penso che questa sia una di quelle cose da cui ripartire scendiamo in Lega Pro domenica gara di ritorno per il Teramo che al Bonolis affronterà il Lumezzane gara delicata per i Biancorossi che con ogni probabilità torneranno al 4-4-2 il Diavolo a disposizione due risultati su tre per centrare la salvezza anche se il portiere Biancorosso Antonio Narciso preferisce essere cauto sentiamolo il pareggio fa più comodo a noi nel senso che effettivamente abbiamo due risultati su tre abbiamo due risultati su tre però è anche vero che il primo tema abbiamo avuto veramente quattro grosse occasioni a poter sfruttare diciamo è stato bravo al portiere però poi si era messa un po' male che loro sono andati in vantaggio però bravi poi a recuperare diciamo che dai tutto sommato è un buon risultato quando hai delle palle e gole poi purtroppo non riesci a fare gole gli avversari ci riescono con meno palle e gole quindi è normale che mentalmente ti può portare a pensare in maniera negativa noi bravi a non farlo perché penso che nello spogliatoio le parole di tutti erano quelle subito positive erano le parole di cercare subito di riprendere la partita ecco e quindi siamo stati bravi in quello non mollare a crederci ripeto quindi alla fine questa è una grossa dimostrazione di carattere è stata sbagliata forse la lettura però poi chiaro ci sono anche gli avversari in campo non è che alla fine sicuramente abbiamo dimostrato di essere molto compatti però ogni tanto va messa anche la brava degli avversari e allo stesso tempo ci può stare anche di fare qualche lettura sbagliata però a livello difensivo però ripeto l'importante era subito recuperare la partita perché se avessimo perso era un po' più difficile adesso però ti rimane un po' la mano in bocca a livello personale sinceramente perché abbiamo creato delle occasioni importanti anche se non abbiamo fatto il nostro buon gioco ecco io la vedo così quindi in una parte ci va bene questa situazione quindi speriamo in casa di cercare anche di fare ancora meglio devi pensare che è una partita secca basta sono 90 minuti e 90 minuti devi dimostrare di essere più forte l'avversario sto cercando ogni punto di vista poi il calcio ha fatto gli episodi però ripeto mentalmente deve essere quella la testa ventiquinto ha giocato con te a Foggia come l'hai trovato? sinceramente è stato un po' emozionante vederlo conto perché mi ha giocato tre anni importanti a Foggia abbiamo condiviso tantissime cose alla fine siamo grandissimi amici però è chiaro tutto si stoppa quando inizia la partita e si riapre tutto quando finisce è stato bello vederlo visto che sta bene però gli ho detto che stiamo meglio a noi quindi è tutto anche per la terza edizione del TG6 io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi vi auguro la buonanotte a presto a presto